Il team di Castelnuovo scrive alla RF, team Bardal, poi V Sport, team Piacentino che porta in gara i due mogliannetti, Alessandro Laguida, Luca Alenote con i colori della Superba, sono diciamo tra tutti i pilottoni esperti qui siete i pivellini di questa classe perché siete il primario in questa trio, come vi trovate e cosa vi aspettate da questo rally? Eh, ci aspettiamo una bella gara, tutta in salita perché dobbiamo prendere affinità a quel mezzo che non abbiamo mai usato e niente, vediamo un po' come si comporta e come ci comportiamo noi, faremo del nostro meglio sicuramente Sei emozionato? Eh, direi di sì perché questo è un sogno che ho fin da piccolo e ce l'abbiamo fatta, vediamo di portarla stasera In Bocca Luca ragazzi salutiamo anche l'equipaggio della Superba con il numero 2, Alessandro Luca, Viglia Alenote In Bocca Luca, Viglia Alenote In Bocca Luca, Viglia Alenote Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.